In occasione del quarantennale della legge urbanistica della regione Piemonte, conosciuta come legge Astengo, l'Associazione dei Consiglieri Regionali ha organizzato una giornata di studio sulla figura dell'architetto e urbanista. Facciamo questa giornata di studio e di riflessione sulla figura di Giovanni Astengo, che è stato assessore della regione Piemonte ed autore per la legge sull'urbanistica, la legge 56 del 77, perché crediamo che le questioni che erano poste in quella legge siano di attualità ancora oggi e quindi fare una riflessione a 40 anni da questa promulgazione di legge riteniamo sia molto interessante e molto importante.